Buongiorno a tutti e a tutte, è Robin Hood del pianeta Terra. Se ho voglia di parlare con voi oggi, anche se sarò breve, è perché da qualche giorno abbiamo ricevuto molti messaggi, molti email, con delle domande in particolare rispetto a alcuni fatti precisi, ossia delle persone hanno sentito dire o hanno visto che il Papa si è fatto vaccinare, che il Dalai Lama si è fatto vaccinare e che entrambi proponevano ai loro discepoli di farlo anch'essi e non solo lo proponevano, li incitavano in maniera importante a farlo e questo ha creato una confusione in alcuni discepoli che avevano scelto di non farsi vaccinare. Quello che vorrei davvero dirvi è soprattutto non date il vostro potere a nessuno, abbiate davvero fiducia in voi, abbiate fiducia nella vostra anima, fidatevi in cosa la vostra anima vi dice di fare, non in quello che vi dice di fare la paura, perché se qualcun altro per quanto eccezionale sia, per quanto lo consideriate, vi dice di fare qualcosa, poco importa, voi dovete mantenere la vostra forza, la vostra potenza, il vostro potere e non dovete, non dovete darla a nessuno, chiunque esso sia, non è che io sia contro i politici o contro i capi religiosi, non ha nessuna importanza, il mio parere non ha nessuna importanza, quello che è importante è che possiate rimanere integri, possiate scegliere quello che va bene per voi, che è giusto per voi e non siate guidati dalla paura, ma guidati dalla vostra anima e questo per me è davvero importante, perché è questo che ci permetterà di uscire dal vicolo cieco in cui siamo attualmente, è questo che ci permetterà di andare più lontano, che vi venga consigliato di farvi vaccinare, chiunque ve lo consigli, non vuol dire che siano persone competenti, per esempio avete dei capi religiosi che sono competenti nel loro campo, ma non per questo lo sono in tutti gli altri campi, la stessa cosa vale per i capi politici, a volte sono competenti nel loro campo, non vuol dire che lo siano in tutto e spesso proprio non lo è, lo avrete notato, quindi fate delle scelte, ma fate delle scelte davvero in funzione di voi stessi, non di ciò che viene detto all'esterno. Poi i capi religiosi sono dei rappresentanti delle grandi religioni, di grandi tradizioni, di esseri come Buddha, Gesù, Maomet, che hanno dato un insegnamento importante, ma chiunque essi siano sono solo degli esseri umani, con delle falle di essere umano, con dei difetti di essere umano, con delle qualità di essere umano, non sono i profeti di partenza, dell'inizio, non sono gli esseri che hanno portato questi insegnamenti e che non hanno mai voluto fare religioni di qualsiasi tipo, non le hanno mai voluto creare. Questa cosa la dovete sapere all'interno di voi, quali siano gli insegnamenti con cui siete in accordo, che seguite, che amate, mantenete la vostra personalità, le vostre scelte, che le scelte che fate siano davvero le vostre scelte e non di personale esterno di voi. È questo che ci aiuterà a uscire dall'impasso. Non è perché seguite in maniera cieca delle guide che vi diranno cosa fare, che voi ne verrete fuori. È perché a un certo punto voi seguirete la vostra anima, la vostra coscienza, ed è ciò che tutti noi stiamo imparando in questo momento così complicato, difficile, ma al tempo stesso estremamente ricco di insegnamenti, stiamo imparando ad avere fiducia in noi, a fare le nostre scelte. Per esempio, vi propongono il passaporto verde, questo passaporto che non è nulla di verde, tra l'altro. Questo passaporto forse farà sì che chi non è vaccinato diventi una persona di seconda categoria. Saranno delle persone che verranno messe da parte, non potranno andare al cinema, in alcuni ristoranti, in alcuni posti, in alcuni supermercati, ma ditevi che il mondo sta cambiando e che basta resistere ancora un po'. Poco importa che non andiamo in alcuni ristoranti, boicottiamo tutti i ristoranti che ci obbligano a mostrare qualsiasi tipo di passaporto, boicottiamo tutte le attività che ci richiedono di mostrare che per esempio abbiamo questo passaporto verde. Non ha importanza, bisogna davvero creare un'altra società, un altro mondo, in modo che non sia un mondo basato su dei robot o su delle decisioni, degli ordini che non hanno nessun buon senso. Quello che avevo davvero voglia di dirvi è questo, non voglio rimanere tanto su questa cosa perché ne abbiamo già parlato tanto, sapete già tante cose, adesso poi vi metterò qua sotto dei video in francese, sotto a Robin Hood in francese e spero che non farete parte del primo video, vedrete, non so se potremo metterli anche in italiano, magari sono dei video che avrete già visto o sono interessanti. Quindi questo è quello davvero che avevo voglia di dirvi per rispondere a tutte queste domande, non volevo rispondere in maniera individuale ma piuttosto in maniera collettiva, a tutte queste persone che si fanno questa domanda e che si dicono non ci credo, ma com'è possibile perché gli insegnanti hanno fatto così? Beh loro hanno il diritto di fare la loro scelta, gli insegnanti e voi di fare la vostra scelta e non è detto che siano delle scelte compatibili, non è detto che siate obbligatoriamente d'accordo con qualsiasi insegnante, per quanto esso sia importante, ricordate di mantenere sempre il vostro buonsenso, il vostro libero arbitrio, qualsiasi cosa facciate, non vi dico di essere dei ribelli, anche se non sarebbe male in questo momento essere dei ribelli, ma soprattutto abbiate fiducia in voi, fate uscire la magia che è dentro di voi, fate uscire tutta questa potenza che abbiamo dentro di noi, non vi dico che non abbiamo bisogno di insegnanti, anche sugli altri pianeti ci sono sempre delle persone in cui abbiamo fiducia, abbiamo fiducia delle persone rispetto alle loro capacità in un dato campo, ma non per tutti i campi e non per gestire la nostra vita, è vero che con i miei contatti su altri pianeti ho già visto come le cose potevano accadere e come ci sono dei collegi, dei gruppi che possono gestire le persone, gli abitanti dei pianeti, ma questo è sempre fatto con un desiderio di amore, di perfezionamento e nessuno obbliga gli altri a seguirli, non c'è nessun obbligo negli altri pianeti, quindi facciamo del nostro pianeta un nuovo pianeta e vedrete che sarà una cosa bellissima, meravigliosa affinché non abbiamo perso il nostro libero arbitrio a condizione che lo manteniamo, quindi vi auguro il meglio e quindi mi raccomando resistete perché è quello che ci aiuterà, perché il sistema sta crollando, vi siete accorti che le persone che fanno parte di questo governo mondiale, stanno mettendosi gli uni contro gli altri e non sono più d'accordo tra di loro? Allora se c'è una faglia tra queste persone che invece normalmente tra di loro quello che fa la forza e la solidarietà, vuol dire che qualche cosa si sta fissurando in questo enorme meccanismo che hanno strutturato. Ed è per questo che io ho una speranza enorme, io so che il pianeta ne verrà fuori e noi insieme ad esso. Per chi conosce il francese guardate i video sotto il Robin Hood francese perché sono simpatici.